Sì perché? Sto facendo un film, ecco qua un operaio, un operaio, questo si che ha, guarda questo, come puoi scendere la coppia? Non puoi scendere la coppia, ora è fatica, guarda qua, e la sotto, e la sotto voglio sopravvivere un altro poco, voglio sopravvivere un altro poco, questo mi vuole far andare sotto questo albero, guarda, così qua sotto, se vedo il stesso mancello ci rimango secco, o si è noi cani, i 6 murbi, e chi sei? Non ti preoccupare, ecco qua, ho fatto un bel film,